Basta guardare. Con fotografie, immagini, contenuti e metodi di quel tipo, circa cinque anni fa mi fu proposta da tanti la candidatura a sindaco di Napoli e se non ci fossero state le primarie del PD di quella specie di cinque anni fa non ci sarebbe stata la nostra avventura e la mia candidatura a sindaco. Questi cinque anni abbiamo governato con le mani pulite, con autonomia, con coraggio, con onestà rompendo anche quella metodologia, quell'immagine ma soprattutto quel sistema clientelare, politico, affaristico e a tratti anche camorristico. A distanza di cinque anni si ripropongono quelle immagini che sono inequivoche e quindi più che commentare noi ci affidiamo al popolo napoletano che con molta chiarezza potrà decidere a chi votare. Se continuare a votare per il cambiamento e per una città che dà sempre di più voce alle persone che vogliono il riscatto di Napoli o votare chi continua a perpetrare logiche clientelari di una vecchia politica che è veramente inguardabile. E dispiace anche per i tanti elettori del PD che magari sono andati appunto a votare pensando di scegliere tra persone e tra candidati e poi ci si accorge che c'è quella fotografia veramente squallida. Non mi interessa entrare in quel campo, è un campo dal quale mi tengo veramente distante, distante dal punto di vista etico, morale, politico, umano. Non mi sembra però un fatto isolato, insomma io l'ho visto il video, l'abbiamo visto, è girato in parecchi seggi, insomma non mi sembra un fatto da minimizzare onestamente, anzi mi sembra fatti molto gravi. Ma ripeto, quello che trovo da napoletano e da sindaco della città è proprio squallido, per me è un'immagine di squallore, dire squallore politico, insomma è squallificare la politica. Quella è una fotografia che mi sembra esattamente la stessa di cinque anni fa, ecco quella è la prima cosa che mi ha colpito, però mi ha anche colpito riflettere quanto è cambiata la politica nella nostra città. Ecco perché noi ci ricandidiamo, perché in questi cinque anni abbiamo dimostrato che c'è anche altro rispetto a quella fotografia. C'è gente che sta facendo un protagonismo politico dal basso, c'è un'amministrazione che non considera la politica come clientele, come affarismo, come voto di scambio, come monete. Ci troviamo di fronte, queste fotografie che sono state messe in circolo nei giorni scorsi dimostrano come si andrà a scegliere in modo netto nella prossima campagna elettorale.